Buongiorno, sono Carlo Varalda, mi occupo di allenamento e formazione. L'argomento di oggi è l'allenamento cardiovascolare. Tratteremo quindi tutti quelli che sono gli aspetti del perché è utile e comodo fare un allenamento cardiovascolare, di quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per l'allenamento cardiovascolare e quelle che sono poi le programmazioni dell'allenamento a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Come fase introduttiva possiamo parlare che l'allenamento aerobico permette un miglioramento di svariate condizioni fisiche e queste sono per esempio il colesterolo, dove dobbiamo sempre ricordarci che l'LDL è una sostanza pericolosa per le nostre arterie ma che attraverso l'esercizio cardiovascolare continuativo è possibile ridurre i valori di tale colesterolo stimolando poi la produzione del cosiddetto colesterolo buono, l'HDL. A tal proposito ci sono molteplici studi che fanno vedere come con un allenamento continuativo di almeno 4 settimane si possano già vedere i primi effetti relativamente a questo aspetto. Abbiamo poi un'altra considerazione che è quella della composizione corporea. Nel tempo si è utilizzato fortemente l'allenamento cardiovascolare come strumento per la diminuzione del grasso corporeo totale e quindi di una riduzione di percentuale totale del grasso. E' chiaro che attraverso l'allenamento cardiovascolare in alcune sue forme è possibile anche avere un limitato aumento della massa magra che come sappiamo porta a un incremento del metabolismo e quindi agevola ulteriormente il consumo del grasso di deposito. Quindi l'allenamento cardiovascolare è spesso stato preso come strumento per la diminuzione generale del peso corporeo del soggetto. Ci sono studi che vanno a presentare il fatto che chi fuma e svolge un'attività continuativa a livello cardiovascolare tende a fumare di meno per tutto l'arco della giornata. Quindi di base con un notevole guadagno per la salute e dall'altra parte anche con una riduzione di quelli che sono gli effetti secondari del fumo anche sulle persone che stanno vicino. Altri studi hanno dimostrato quanto l'attività cardiovascolare permette di regolare meglio i livelli di glicemia nel sangue soprattutto per i soggetti diabetici e quindi porta in alcuni casi anche a una riduzione dell'assunzione di insulina in soggetti insulina dipendenti. A tal proposito anche qui gli studi parlano di un periodo di allenamento che deve essere superiore alle 4 settimane fatta con continuità di almeno 3-4 volte a settimana. Ci sono poi effetti benefici sulla pressione arteriosa dove una regolare attività cardiovascolare va ad agire su una riduzione della pressione sia massica ma soprattutto, cosa più importante, sicuramente in soggetti ipertesi, è una riduzione della pressione minima. Tutto questo è sempre evidenziato negli studi con un'attività che sia continuativa per almeno 3 volte a settimana con un livello di intensità abbastanza basso e che sia almeno prolungato per 4-6 settimane continuativamente. Abbiamo anche una maggiore diluizione del sangue attraverso l'allenamento cardiovascolare con un aumento del numero di capillari, miglioramento dell'elasticità del calibro dei vasi e anche questo va ad agire in maniera globale su tutti quelli che sono gli aspetti della pressione sanguigna. Anche sul cuore ci sono degli effetti che poi vedremo più nel dettaglio quando parleremo di quelli che sono gli adattamenti acuti e gli adattamenti cronici e in quanto con un'attività cardiovascolare continuativa abbiamo una diminuzione della frequenza cardiaca in rapporto all'intensità dell'esercizio, una diminuzione della frequenza cardiaca a riposo e un aumento del volume della scarica sistolica. Non solo per gli atleti che fanno attività di endurance, questo è estremamente utile, ma la diminuzione della frequenza cardiaca a riposo e una diminuzione della frequenza cardiaca in rapporto all'intensità dell'esercizio è un'ottima cosa anche per i soggetti cosiddetti fitness, cioè quelli che fanno un'attività per stare meglio e soprattutto per avere degli effetti che si protraggano poi nel prosieguo della loro vita all'aumentare degli anni. C'è anche un aumento della massima ventilazione al minuto e quindi anche una maggiore capacità di introduzione di ossigeno e quindi anche di utilizzazione e veicolazione dell'ossigeno ai vari tessuti del corpo. Ci sono molteplici studi, si sono tra l'altro moltiplicati ulteriormente in quest'ultima fase, dove ci sono delle strette sinergie tra quelle che sono gli aspetti dell'allenamento cardiovascolare e quelli che sono gli aspetti relativi alla sfera psicologica del soggetto. È sicuramente definibile come antistress nell'attività fisica aerobica, sia perché porta a un innalzamento alla produzione di endorfine, che possiamo definire delle droghe naturali, che sono in grado nel nostro cervello di dare una sensazione di benessere e armonia. Infatti vediamo come, soprattutto in una fascia d'età superiore ai 40 anni, ci sia una grossa tendenza a sentire benefici e effetti attraverso l'esecuzione di corse di durata decisamente intense. I parametri che solitamente vengono usati quando si parla di allenamento cardiovascolare è il battito cardiaco massimo teorico. Le due formule che propongo sono le più attuabili, le più pratiche, una più datata, che è la formula di Cooper, due venti meno l'età, che tra l'altro è usata nelle reparti di cardiologia quando si fanno i test cardiovascolari, e l'altra, più recente, decisamente più recente, è la formula di Tanaka, che prevede che il calcolo del battito cardiaco massimo teorico sia 208 meno una costante, lo 0,7, per l'età del soggetto per il quale stiamo calcolando la formula. Da qui si arriva a ragionare in termini di battito cardiaco allenante. Il battito cardiaco allenante rappresenta il valore della frequenza cardiaca che ci permette di ottenere determinati adattamenti con l'allenamento. È chiaro che questo battito allenante ha un range di azione che va dal 50%, frequenza sotto la quale non si possono pensare di ottenere miglioramenti attraverso l'allenamento, e il 90%, una frequenza massima utilizzata sotto forma di allenamento per evitare qualsiasi tipo di rischio sui soggetti che si stanno allenando. In questo range, tra il 50% e il 90%, un range decisamente ampio, c'è la possibilità di strutturare programmi di allenamento utili allo scopo. Si sente spesso parlare del V2max. Il V2max rappresenta la massima quantità di ossigeno che il soggetto è teoricamente in grado di utilizzare durante l'attività. È in un certo senso il parametro assoluto di capacità aerobica. Bisogna anche dire però che negli ultimi tempi sono usciti svariati studi scientifici che hanno un po' rimesso in discussione il concetto del V2max non tanto come parametro da analizzare attraverso dei test di valutazioni quanto per il suo reale utilizzo in termini di organizzazione e programmazione di un allenamento. Solitamente il massimo consumo di ossigeno viene raggiunto solo quando da un sesto a un settimo dell'intera muscolatura lavora in modo dinamico almeno per sei minuti. Quindi è chiaro che si presuppone che si possa parlare di valutazione del V2max con un test o comunque un allenamento superiore ai sei minuti e che coinvolga almeno un sesto a un settimo dell'intera muscolatura del corpo umano. Il V2max è influenzato da due fattori. Uno è la capacità funzionale del cuore, quindi la capacità reale del cuore di espellere sangue e di ricevere sangue. L'altro è lo sfruttamento dell'ossigeno a livello periferico per cui noi potremmo trovarci ad avere una grossa introduzione di ossigeno ma non avendo lo strumento o gli strumenti, per meglio dire, di sfruttare questo ossigeno, in realtà quando espiriamo ne andiamo a ritirare fuori una quantità di vivo decisamente alta. Il V2max può essere calcolato per via indiretta, così come può essere calcolato per via diretta. Per via indiretta ci sono test sulle macchine cardiovascolari già preimpostati, sono tutti test submassimali, quindi arrivano al massimo a portare il soggetto al 85% della sua frequenza massimale teorica e quindi in estrema sicurezza. Non avendo macchine che fanno i calcoli, che quindi ci risolvono il problema di prendere i dati, c'è comunque una formula presentata dalla CSM, l'American College of Sport Medicine, con la quale è possibile attraverso, con un cronometro e il conteggio della velocità del tappeto, andare a realizzare qual è il V2max del soggetto che sta eseguendo l'esercizio. In altro modo, se no, il V2max è analizzato attraverso i metabolimetri che fanno proprio una differenziazione analizzando la quantità di ossigeno introdotta nell'ispirazione e la quantità di ossigeno espirata dal soggetto. Sono chiaramente strumenti che hanno un costo decisamente più alto, sono anche strumenti però che possono essere di estrema utilità nel caso in cui uno volesse impostare un allenamento sul soggetto in funzione della capacità del V2max. Nell'allenamento aerobico è chiaro che la variante della frequenza cardiaca è data dal cuore, è chiaramente un cuore sano, è in grado di cambiare la sua potenza propulsiva in limiti molto ampi. L'agittata cardiaca durante l'attività in soggetti non allenati può aumentare al massimo di 4-5 volte quella a riposo, in soggetti allenati si arriva fino a 8 volte il valore a riposo, quindi si comprende come cambia in maniera notevole l'apporto del cuore durante un'attività cardiovascolare. Fino a 10-11 anni il V2max non mostra differenze significative fra ragazzi e ragazze e questo quindi ci permette di poter lavorare in maniera generica su entrambi gli sessi. E l'altra cosa che bisogna ricordarci è che i soggetti allenati in maniera specifica sotto il profilo cardiovascolare sono soggetti in cui la fluttuazione di V2max annuale è dovuta non tanto a un'ulteriore capacità di incremento di questo parametro quanto a quanto dura una fase di detraining durante la stagione. Si dice infatti che un atleta di alta qualificazione per circa 10 anni non dovrebbe mai avere momenti di pausa proprio perché questo detraining avrebbe degli effetti per esempio sull'apparato cardiovascolare con una riduzione del V2max assai importante in un atleta per esempio di endurance. Un altro parametro che si prende in considerazione sono i Mets e il Mets rappresenta 3,5 mililitri per kg per minuto di attività e corrisponde praticamente a quello che è il consumo basale e il consumo dato dal metabolismo basale. È riferito chiaramente a kg di peso corporeo e quindi questo ci dice qual è realmente il consumo che si ottiene attraverso il metabolismo basale del soggetto salvo poi chiaramente che si incrementa con l'attività di allenamento. Anche i muscoli ottengono dei benefici per un lungo periodo si è pensato che i muscoli non avessero alcun effetto o non subissero alcun effetto dall'allenamento aerobico in realtà sotto il profilo metabolico più che strutturale c'è anche sui muscoli un effetto dato dall'allenamento cardiovascolare l'aumento della capacità aerobica nelle fibre muscolari e della loro capacità resistiva. Attraverso l'allenamento aerobico si incrementa la capacità di recupero del lavoro muscolare per cui anche in attività di potenza dove solitamente non si era soliti fare un allenamento cardiovascolare dare una base di lavoro aerobico permette di aumentare la capacità di recupero per esempio tra una serie e l'altra tra un esercizio e l'altro ma anche un recupero più generalizzato tra un allenamento e l'altro. Quando si parla di metabolismo si parla prevalentemente di come si utilizza i sistemi metabolici al fine di permettere la sopravvivenza del corpo umano i grassi di deposito in attività non di intensità sono i principali fautori delle attività vitali ed è per questo che per molti anni si è pensato che un allenamento aerobico a bassa intensità ma protratta lungamente nel tempo potesse aiutare a diminuire i depositi di grasso. In realtà devo dirvi che gli ultimi studi hanno dimostrato come questa cosa è vera fino a un certo punto perché in realtà l'utilizzo dei sistemi di deposito, diciamo dei grassi di deposito può essere molto più sollecitato attraverso un altro tipo di allenamento che vedremo più avanti. La fibra muscolare maggiormente utilizzata nell'allenamento aerobico in modalità continuativa e che si modifica con la proposta allenante è chiaramente quella con caratteristiche di fibra allenata la cosiddetta fibra allenata. Anche nell'ambito di quello che è l'allenamento aerobico noi siamo in grado, così come nell'allenamento muscolare, di generare e quindi verificare se l'allenamento ha prodotto adattamenti sia acuti che cronici. È logico che verificare se si sono svolti, se si ha visione di questi adattamenti ci permette di dire che il programma di allenamento è adeguato e rispondente a quello che è il lavoro che si vuole, l'obiettivo che si vuole raggiungere. Le risposte acute a livello cardiaco per effetto del sistema nervoso la frequenza cardiaca e l'aggistata sistolica aumentano durante l'esercizio. Entrambe determinano l'incremento dell'aggistata cardiaca. Quindi sono sotto diretto controllo del sistema nervoso. La frequenza cardiaca aumenta fondamentalmente in conseguenza di una stimolazione da parte del sistema nervoso simpatico. ed è logico che se propongo un allenamento ad intensità crescente la frequenza cardiaca andrà ad aumentare strada facendo al fine di supportare attraverso la circolazione sanguigna l'invio delle sostanze nutritive e dell'ossigeno ai tessuti impegnati nel movimento. La aggistata sistolica aumenta per tre ragioni una per il cambiamento del precarico un'altra ragione è la pressione esercitata sul cuore alla fine della diastole ed è conseguenza di un aumento del flusso sanguigno di ritorno al cuore. La aggistata sistolica aumenta perché c'è un cambiamento del postcarico che è definito come la resistenza o l'impedimento allo svuotamento ventriconale che può contribuire a diminuire la resistenza periferica fino al 50-60%. E l'altro aspetto è il cambiamento della contrattilità miocardica a causa dell'imento del ritorno venoso al cuore il meccanismo Frank Sterling induce un aumento della contrattilità cardiaca e quindi è una risposta acuta con un aumento dell'aggistata sistolica. Più volte ci sono stati riscontri relativi a quello che è l'incremento del tessuto muscolare cardiaco in alcuni casi in maniera patologica in altri invece in maniera del tutto normale a seguito degli esercizi ed è una risposta simile chiaramente visto che il muscolo è un muscolo striato a quelle che noi troviamo nei muscoli scheletrici sottoposti ad un allenamento con i sovraccarichi per cui ove il cuore è sollecitato in ampio modo attraverso un allenamento continuativo di intensità elevata nel tempo si riscontrano effetti di ipertrofia cardiaca. Anche le camere cardiaca aumentano cioè il cuore non solo aumenta di ipertrofia ma aumenta anche di volume e questo chiaramente sono indipendenti dal sesso e dall'età. abbiamo poi una riduzione della frequenza cardiaca a riposo che già si apprezza dopo due settimane di allenamento cioè dopo due settimane di allenamento come adattamento cronico si nota già che la frequenza cardiaca a riposo tende a essere più bassa rispetto a quando abbiamo iniziato l'allenamento. È un parametro molto facile da prendere è un parametro che può essere tenuto facilmente sotto controllo dalla persona stessa per cui insegnando in maniera corretta la modalità con la quale prendere la frequenza cardiaca a riposo sicuramente il soggetto sarà in grado di darci un feedback costante di quelli che sono gli effetti dell'allenamento a livello cronico sulla quella che è la frequenza cardiaca a riposo. Sempre a livello di adattamenti cronici abbiamo un aumento del volume del sangue e questo avviene sia perché c'è un aumento di parte liquida cioè del plasma che è di una parte solica dell'emoglobina che sappiamo che è il trasportatore dell'ossigeno ai tessuti e quindi è chiaro che dove c'è una maggiore richiesta di questo trasporto c'è un aumento anche di porzione solida del sangue. A livello anche dei vasi coronarici noi possiamo avere degli adattamenti acuti che sono dati dalla basodilatazione delle arterie coronariche di destra e di sinistra e in conseguenza l'aumentata richiesta di ossigeno dal muscolo cardiaco quindi questo è un adattamento acuto non invece è stata dimostrata nessuna modifica della densità capillare e quindi non ci sono tendenzialmente quelli che vengono definiti adattamenti cronici relativamente ai vasi coronarici. Mentre ai vasi periferici abbiamo degli adattamenti cronici che sono dati dall'aumento della densità dei letti capillari consentendo una maggiore diffusione di ossigeno metaboliti l'incremento può arrivare anche al 15% chiaramente dopo lunghi periodi di allenamento cardiovascolare a livello metabolico abbiamo una maggiore capacità di utilizzo dei substrati lipidici durante l'allenamento aerobico rispetto ad altre forme di allenamento e l'attività aerobica continuativa migliora la funzione mitocondriale sia con incremento del numero dei mitocondri sia con incremento delle loro dimensioni all'interno dei muscoli i test di valutazione solitamente più noti per quanto riguarda la valutazione cardiovascolare sono il test del V2max il test di Conconi il test di Cooper e il Balche modificato li vediamo rapidamente il test del V2max si ricava attraverso un test fitness in cui il soggetto viene portato dopo opportuno riscaldamento al 65% della frequenza cardiaca massima ci viene mantenuto per 3 minuti e quindi in funzione di quanto la macchina fa fatica a tenere il soggetto al 65% ci sarà chiaramente una parametrizzazione a livello della formula matematica ci sono successivamente altri 4 minuti per stare dopo che ci è stata portata al 75% della frequenza cardiaca massimale e da lì si ricava attraverso delle formule matematiche quello che è il V2max del soggetto quindi un test che dura una decina di minuti è in assoluta sicurezza e ci dà un risultato percentualmente abbastanza attendibile come dicevamo ci sono attrezzature che lo faranno in forma diretta c'è anche la formula dell'American College of Sport Medicine attraverso la quale è possibile calcolare il V2max seguendo un soggetto su un tapirulan con un cronometro e conoscendo la velocità di spostamento del tappeto per arrivare a realizzare questa a mettere i numeri dentro questa formuletta per ottenere quello che è il volume del V2max il dato del V2max è anche utilizzato per la programmazione dell'allenamento per la verifica dei risultati raggiunti al posto della frequenza cardiaca infatti non c'è una relazione diretta tra la frequenza cardiaca massimale e il V2max massimale ma c'è una relazione diversificata che potete vedere in questa tabella è più facile sicuramente lavorare con percentuali della frequenza cardiaca massimale ma in alcune situazioni in alcune discipline in realtà la cosa che si va a vedere è maggiormente se il soggetto lavora a livello del suo V2max cioè è in grado di utilizzare sfruttare per una performance la quantità di ossigeno che assume attraverso la respirazione un altro test che ha fatto storia è il test di Conconi che è del 1976 che è atto a determinare indirettamente la soglia anaerobica questo è stato un test all'inizio pensato per pochi sport e poi in realtà attualmente viene utilizzato anche per quegli sport di situazioni quali per esempio il basket e la pallavolo i parametri rilevati nel test di Conconi mettono in relazione due variabili da una parte la frequenza cardiaca e l'altra la velocità di corsa questo test è un test incrementale massimale i soggetti partono da una velocità iniziale relativamente contenuta e a seconda del loro livello di allenamento può variare come vedete nella parte finale della slide tra i 4 e i 5 km orari per soggetti sedentari tra i 5 e i 7 km orari per atleti praticanti sport tendenzialmente più orientati a una intensità alta che può generare appunto la produzione di acido lattico e 8-12 km invece per i corridori di media e lunghe distanze cioè per quei soggetti che fanno dell'attività cardiocircolatoria il loro punto focale di allenamento i soggetti quindi partono da una velocità che per loro è facilmente gestibile e a intervalli regolari solitamente sono 200 metri aumentano costantemente il ritmo di corsa fino chiaramente nelle fasi finali della prova arrivare praticamente a uno sprint massimale e tutto ciò porta a che cosa alla misurazione della frequenza cardiaca durante la corsa e alla misurazione della velocità di corsa ad ogni incremento i dati vengono riportati su una tabella come quella che vedete sotto dove c'è una progressione lineare di aumento della velocità e di frequenza cardiaca fino a un certo punto punto in cui la frequenza cardiaca aumenta ancora scusatemi la velocità aumenta ancora ma la frequenza cardiaca non aumenta più uscendo da questa relazione lineare questo punto viene definito punto di deflessione o velocità di deflessione e rappresenta il momento in cui praticamente si assiste a un passaggio da un'attività aerobica ad un'attività anaerobica quindi la velocità che il soggetto sta portando avanti è una velocità che non riesce più a gestire attraverso il metabolismo aerobico ma va a gestire prevalentemente nel metabolismo anaerobico il test di Cooper è stato utilizzato fino agli anni 90 come test di valutazione nell'ambito per esempio del calcio è un test molto semplice da realizzare perché si corre su un terreno all'aperto possibilmente senza variazioni di altitudine che andrebbero a modificare poi la risposta dei soggetti sia a seconda del peso sia a seconda della loro muscolarità e i soggetti devono correre per 12 minuti si misura la distanza percorsa in funzione del risultato di distanza percorsa ci sono poi belle di comparazione realizzate negli anni e anche a volte differenziate per categoria di sport questo che è ancora oggi un test facilmente realizzabile ha perso un pochettino la sua la sua diciamo modalità di essere proposto in quanto non sempre si ha a disposizione un percorso che di cui conosciamo esattamente la lunghezza e quindi per la difficoltà poi andare a prendere quella che è la reale misura di distanza percorsa il bulk è modificato invece si parte da un test che è sempre per la misurazione delle capacità aerobiche è modificato in funzione del fatto che viene proposto a quei soggetti che fanno uso di farmaci i beta bloccanti che non permettono una valutazione corretta della frequenza cardiaca perché vanno a limitare quelle che sono le escursioni della frequenza cardiaca anche questo è un test incrementale fatto su di un run dove ogni due minuti si incrementa la pendenza o la velocità e si usa la scala di Borg per andare a verificare se il soggetto ha o non ha un incremento del senso della fatica nell'ambito della scala di Borg modificata cioè in una scala da 1 a 10 si ritiene e studi dimostrano questo che quando il soggetto parla di aver raggiunto un livello 6 è il momento nel quale appunto sta in soglia e quindi è il momento del V2 max per cui uno andrà a prendere il dato della velocità e della pendenza del run per poter poi successivamente nel test successivo nel retest andare a verificare se attraverso una proposta di allenamento a carico esterno si riuscirà a innalzare questa soglia io direi che a questo punto possiamo fermare la prima fase di allenamento di allenamento